Intossicata dall'incendio che è scaturito dal televisore della sua abitazione al quarto piano di una palazzina di via Paladini alla Civico 5 al quartiere Varignano a Via Reggio. Una donna di 80 anni è stata trasportata domenica sera al pronto soccorso dell'ospedale Versilia per l'intossicazione da fumo riportata. Ed ha avuto necessità di cure mediche in ospedale anche il vicino di casa, un uomo sulla quarantina, che ha prestato i primi soccorsi all'anziana. Per entrambi il codice di gravità è stato giallo che non indica pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'automedica Versilia, le ambulanze della Croce Verde di Via Reggio e la Misericordia di Lido di Camaiore oltre una volante del commissariato di polizia. I vigili del fuoco hanno evacuato per precauzione i piani sottostanti all'appartamento dove è scoppiato l'incendio ed è stata lunga l'attesa al freddo per capire se potete rientrare a casa o meno, poi gli altri condomini sono rientrati in casa. L'appartamento al quarto piano dove si è sviluppato l'incendio è stato dichiarato inagibile per una questione di salubrità dell'ambiente e di sicurezza dell'impianto elettrico.